1929. Al Capone manda i suoi ad uccidere la banda rivale. 1956. Inizia la svolta antistalinista di Kruschev. 2005. Beirut. Autobomba uccide l'ex premier Rafik Ariri. Commenta il fatto del giorno Marco Romano, vice direttore e responsabile del Giornale di Sicilia. Marco Pantani è un grande romanzo denso di misteri.